L'innovazione delle linee Fava passa anche attraverso l'innovazione digitale. La raccolta dei dati tramite sensoristica avanzata in modo affidabile viene sfruttata attraverso l'implementazione di tecnologie di intelligenza artificiale per fornire servizi a valore aggiunto per il cliente. I risultati di questi servizi vengono poi esposti sfruttando tecnologie web per esporre i dati sempre e ovunque. Sempre le tecnologie web vengono utilizzate per fornire informazioni ai clienti relativamente alla ricambistica e alla manutenzione preventiva.